. Bianca Guacero finisce al pronto soccorso, brutto incidente per la conduttrice di Detto Fatto. La conduttrice di Detto Fatto ha avuto un piccolo incidente domestico. . Come tutti ben sanno dallo scorso settembre 2018 Detto Fatto ha una nuova conduttrice. Stiamo parlando della bellissima Bianca Guacero che alcune ore fa ha voluto raccontare una sua disavventura. Per farlo ha scelto il suo profilo Instagram. . Ricordiamo che la donna ha sostituito Caterina Balivo, la conduttrice che per anni ha presentato lo show Pomeriggio di Rai 2 Detto Fatto. Bianca Guacero si è tagliata una mano lavando i piatti. . Alcune ore fa Bianca Guacero ha raccontato di aver avuto un incidente domestico. Attraverso il suo account social la donna ha rivelato di essersi fatta male mentre stava lavando i piatti sporchi della sera precedente. . La nota conduttrice ha mostrato a tutti i suoi fan il risultato di questo incidente in casa, una mano tagliata con ben sette punti. . Bianca Guacero è abbastanza seguita anche sui social network e ora sta dimostrando di essere anche una brava presentatrice. . . Il suo lavoro iniziale, infatti è attrice e cantante ma ora con detto fatto sta dando dimostrazione di essere una vera e propria sovoman. . Bianca Guacero è il suo libro Il tuo cuore è come il mare. . Di recente Bianca Guacero ha presentato il suo primo romanzo. . La conduttrice di detto fatto è unartista a 360 gradi, infatti è diventata anche una scrittrice. . Alcuni giorni fa, infatti, è uscito il libro Il tuo cuore è come il mare. . Un volume che i fan della presentatrice Rai non vedono l'ora di leggere al più presto per valutare quest'altra vena artistica della Guacero. . Un viaggio nell'amore e nella sua inquietante ma allo stesso tempo affascinante complessità. . A questo punto non ci resta che attendere per sapere l'opinione di coloro che la seguono. . Ecco lo scatto che Bianca ha postato tra le stories di Instagram dove mostra la sua mano fasciata. .